Non c'è solo il Covid a fare nuovamente paura perché sono allarmanti i numeri dell'influenza stagionale che ha messo KO già 300.000 cittadini pugliesi, un dato che è il più alto registrato negli ultimi 15 anni. Numeri che non possono essere sottovalutati e che si aggiungono al rischio recrudescenza del Covid. L'allarme peraltro è giunto nei giorni scorsi anche dall'osservatorio epidemiologico regionale e spaventa anche il fatto che l'epidemia è scoppiata prima del previsto con un andamento veloce e un alto tasso di contagiosità. A fare la differenza notano gli esperti e il fatto che moltissimi tra i giovani adulti hanno evitato la vaccinazione contro l'influenza stagionale. Di qui l'invito a provvedere per chi ne avesse la possibilità. C'è poi anche il problema legato alle scorte di farmaci usati contro la sindrome influenzale. Il rischio è che possano essere sempre più difficili da reperire visto l'altissimo consumo.